Sono contento che siamo usciti da questo campo con tre punti, perché abbiamo fatto una prova di grande carattere e non era facile farla su questo terreno, perché sicuramente non agevolava le nostre qualità. Però sono, ripeto, soddisfatto di quello che abbiamo fatto, portiamo a casa questi tre punti e guardiamo già la prossima partita, perché sarà almeno altrettanto difficile. Sono contento dei giocatori che sono scesi in campo, Sisse ieri ha avuto un problemino in allenamento, oggi volevo vedere se poteva essere a disposizione, non è stata a disposizione, e hanno fatto benissimo i ragazzi che sono stati chiamati per fare questa partita. Per uscire indenni da questo campo, con questo terreno, in questo ambiente, contro una squadra di qualità, sicuramente c'era bisogno di una prestazione di grande livello e noi siamo stati in grado oggi di saperla fare. Le condizioni sicuramente non agevolavano le qualità dei nostri grandi giocatori tecnici che avevamo in campo, però credo che quando qualcuno sa giocare a calcio lo sa fare su tutti i terreni e noi siamo stati bravi a mettere l'atteggiamento giusto per poi esaltare le qualità nel gioco quando abbiamo avuto l'opportunità. Christian credo che abbia fatto quasi tutte le partite quando è stato disponibile, quindi domenica sa di aver sbagliato e oggi, come tutti i suoi compagni, è stato in grado di fare una prestazione di livello e come tutti i suoi compagni sa che possiamo ancora crescere tantissimo. Siamo stati bravi tutti, sicuramente Nenna ha fatto una grande partita, siamo stati bravi ad avere l'atteggiamento giusto, siamo contenti di aver portato via da qui tre punti, però dobbiamo essere bravi a mantenere l'equilibrio che non ci deve mandare in aria quando usciamo con i tre punti da qualsiasi campo e non ci deve deprimere quando purtroppo non ci riusciamo. In un campionato così lungo dobbiamo avere la bravura, di avere la costanza, di poter fare tutte le gare con l'atteggiamento giusto e poi delle volte ovviamente saremo in grado di vincere, altre purtroppo no e ripeto ancora, pochi mesi dalla fine guarderemo dove ci troveremo per provare a scalare ancora di più le posizioni. Sono stato molto contento di tornare perché è un ambiente che mi ha accolto bene quando sono venuto, che era un ragazzo, che mi ha dato la possibilità di crescere nel grande calcio e ho rivisto con tanto entusiasmo tanta gente con cui ho condiviso dei ricordi bellissimi e mi ha fatto veramente piacere tornare in questo ambiente. Sicuramente bisogna preparare subito la partita che viene, dobbiamo essere bravi ma noi dentro proviamo ad esserlo e se tutti quanti ci riusciamo a dare una mano sicuramente è più facile a non pensare che nessuna gara sia determinante, fondamentale o quel che si voglia dire. Tutte le gare sono importanti per poter fare bene ma nessuna per il momento è determinante e mi auguro che un giorno potranno arrivare veramente le gare determinanti perché vuol dire che saremo stati in grado di fare qualcosa di bello.